Ragazzi, buongiorno a tutti e posso dirlo il giorno dopo si gode ancora ed è ancora più bello Ieri sera si è giocata Palermo Genoa, sappiamo com'è andata sul canale uscita la Reaction Che abbiamo fatto in live sulla piattaforma Viola ed è uscito ovviamente sempre ieri questo, il post partita Quest'oggi, nuovo format, format che vi voglio portare da un'eternità ma che per varie cose non vi ho mai portato Però è una cosa che mi piace fare, mi piace dare voti, non sono i voti che vedrete tipo sulla gazzetta, su queste cose, non mi interessa I nostri voti saranno comunque più divertenti e andrò quindi ogni partita da adesso in poi a portarvi il giorno dopo le mie pagelle Vi invito, mi piace, commento, raggiungiamo però almeno 300, non è facile raga, 300 mi piace Per avere le pagelle anche di settimana prossima e sappiamo settimana prossima che partita ci sarà È stata una bella partita, lo sappiamo, ce la siamo goduti alla grande E vi ricordo anche di seguirmi su tutti i social, Instagram, TikTok, andate a commentare tutti il TikTok con la Reaction E di scaricare l'app, primo link in descrizione, app sul calcio gratuita, fatemi questo favore Poi vi aspetto in live, ci saranno tante tante novità, partiamo però, partiamo Ci sarebbe tanto da parlare, l'ho già fatto e lo farò ancora ovviamente in live sulla piattaforma viola Ma questa partita era di fondamentale importanza anche per il morale Partiamo con le pagelle e qui sotto nei commenti voglio le vostre pagelle Ok? Quindi voi, qui sotto, scrivete la lista dei giocatori Non sarà molto montato questo video perché devo andare al pronto soccorso Seguitemi su Instagram, lo capirete poi e vi spiegherò poi il motivo Non sarà montato il video, quindi voi scrivete la vostra lista dei giocatori E scrivete i voti, ditemi se siete d'accordo con me o meno Non fate troppi pignoli, cioè se io do un voto altissimo Tipo che ne so, un voto giusto dovrebbe essere tipo che ne so, il 7 E io do 27 Capite il motivo, no? Comunque, partiamo da Pigliacelli Le prende tutte Si prende le critiche, si prende gli insulti Si prende il Pigliacelli out in massolo E para pure le bestemmie dalla curva ospiti Meriterebbe un voto ancora più alto solo per le dichiarazioni in post partita Dove dice, se la gente mi critica preferisco prendere il mio le critiche Ed essere coperto e quindi proteggere la squadra Se le ben prende, prende critiche, palloni, le prende tutte Voto 8, meritato, meritatissimo Pigliacelli si riprende alla grande Passiamo alla difesa, poi alla fine ci saranno i panchinari Buttro, Nedelziaru, Marconi, Mateio Partiamo dal Cavallo Pazzo Adesso verrà nominato così Cavallo Pazzo è Alessio Buttor Che oggi compie 20 anni, tanti auguri a lui Voto 7 Criticato anche lui, molto giovane Classe 2002 Fa tutta la fascia avanti e indietro Lotta, non si risparmia Ha già salvato 4 gol davanti alla linea Praticamente in queste prime partite di campionato Ieri aveva degli avversari comunque ostici Ha marcato nel secondo tempo a ramo, praticamente all'uomo E ne è uscito vincitore Alessio Buttorò Gli auguriamo il meglio, ovviamente Sempre con la nostra maglia Conferma, per me Punto fermo della nostra difesa Voto 7 Pieno Pure 7 più 7 più 7 più 7 più Punto Difensore Ah no, passiamo al terzino sinistro Matteio Qui l'unica nota un po' storta Della nostra retroguardia Matteio che è arrivato senza preparazione Perché era svincolato Ed è stato subito buttato nella mischia Perché piuttosto di vedere Crivello Ditolare Pure Eugenio Corini Si sarebbe inventato pure Massolo Terzino Quindi, Matteio in campo Va in difficoltà Viene ammonito al primo fallo che fa L'arbitraggio un po' ambiguo Vabbè, ma lo sappiamo Il voto è 6 Nel complessivo Non dono insufficienza Ve lo dico già adesso Ve lo spavano Niente insufficienza in questa partita Perché non si possono trovare Dei punti deboli E forse quello col voto più basso 6 per Matteio Che rischia comunque anche La doppia munizione Ma comunque regge fino all'85 Quindi GG a lui Non male In difesa i due centrali Erano Edelziaro e Marconi Partiamo da Edelziaro Voto 7 Meno Meno perché? Meno soltanto per il Tra virgolette Liscio Finale Per il resto Compia una partita Perfetta Il suo marcatore Lo suo uomo da marcare Era Ekuban Diciamo che I fisici sono diversi Ekuban molto molto più veloce Del nostro difensore rumeno Però si comporta Alla grande Accanto a Ivan Marconi Diciamo che Edelziaro Ha sempre dimostrato Di essere Un ottimo marcatore Legge bene Le occasioni avversarie Per me Compia un'ottima partita Preciso A parte sì Il Non do il 7 e mezzo Solo per quello Perché Per quel Brivido finale Che comunque Poi hanno annullato il gol Per fuorigioco giusto Fuorigioco attivo Perché prova a intervenire Sul pallone e bani Ma non lo prende Passiamo all'altro Il pilastro Il pilastro Della nostra difesa Ivan Marconi Sarà lento Sarà Impacciato In alcuni movimenti Non riuscirà a recuperare In velocità Chiunque Ma Ivan Marconi Quest'oggi A fine partita In tasca Aveva massimo coda E non è cosa da poco Voto 8 Leader Muro Difensivo Della nostra difesa E si merita Di gioco a titolare Perché con lui La storia è cambiata Passiamo alla SSS Il nostro centrocampo Stulaz Saric Segre Partiamo da Stulaz Stulaz Per me Merita Un 6,5 Non esiste Come ho detto Ma tipo 6,5 Con un piccolo meno Un po' troppo In precisione Da parte sua Nei passaggi Cosa che lui Spero non ci abitui a fare Perché per me È un regista Di alta classe Deve tornare Deve raggiungere La miglior forma possibile Deve Integrarsi al massimo Con i compagni Quindi Penso che Serva tempo anche per lui Comunque Fa un'ottima partita E rischia di segnare Suo punizione Passiamo al secondo Che è Saric Anche lui deve entrare in forma Deve integrarsi Anche lui con i compagni Ma questa è una cosa Che dovrei ripetere Per ogni giocatore Rispetto Alla sfida Con la Reggiana Fa molto di più I do Un 6 più Di incoraggiamento Meriterebbe un 6 anche lui Sbaglia Sbaglia tanti palloni Cosa andando a lui Perché è un giocatore Che è una classe infinita Però Poi ragazzi Ha fatto delle aperture Con l'esterno Da alta classe E per poco Non segna anche Anche il gol Il migliore del centrocampo A mio avviso È Jacopo Segre Il migliore amico Che tutti vorrebbero avere Perché Andate a rivedervi L'esultanza Pubblicata Dal nostro Social Media Manager Sul profilo del Palermo Instagram Ragazzi Ma Segre Quanto era contento Sorrisone Sempre a mille denti Bellissimo Davvero Voto 7 più Non ha smesso di correre Un motorino Ma poi Ha rischiato anche di segnare Ottimo in fase difensiva Sgroppato in avanti Veramente Il migliore del nostro centrocampo In questa partita Voto 7 più Meritatissimo A parer mio Andiamo avanti A destra Elia A sinistra di Mariano Davanti Brunori Elia Primo tempo Non bello Si sciarria parecchie volte Col pallone Il secondo tempo però Mette in mostra Le sue doti Corre in contropiede E piccante Da tutto Da tutto per la maglia E questo gli fa onore L'avrei cambiato per Valente Negli ultimi 20 minuti 15 minuti Ma lui comunque Mi ha Nel secondo tempo Mi ha convinto In contropiede E' un giocatore Che comunque E' molto 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 utile E ha una resistenza Allucinante Voto 6 e mezzo 5 e mezzo Primo tempo 7 nel secondo Un 6 e mezzo Gli lo do Gli lo do Bello tranquillo Ad Elia Che deve comunque Migliorare Ci sta Dall'altra parte C'è Di Mariano Checco Tanto criticato Perché palermitano Noi palermitani Noi palermitani Critichiamo più i palermitani Che gli altri Checco Sbagli E avere un gol Facile Ma fa poi Tutt'altro Perché Corre Pressa Lotta Ringhia sugli avversari Spedisce un pallone In curva Ospiti Quando bastava Lasciarlo andare fuori E' un pazzo E' un pazzo E' lottato per tutti i minuti In cui è rimasto in campo Deve ancora Migliorare la sua affinità Con Brunori Questo Penso sia normale Però Raga Io Un 6 e mezzo Non posso che non darlo Darei un 7 meno Anzi Do proprio un 7 meno Il meno Solo per il gol sbagliato Ma Sbagliano anche i campioni Tempo al tempo Di Mariano Sono certo Che entra nei cuori Da me è già entrato Nei cuori Di tanti palermitani Andiamo a Matteo Luigi Prunori MVP Miglior giocatore del match Segna Esulta Dedica il gol Impazzisce Lotta su ogni pallone Salva un gol Sulla linea di petto Ma Matteo Fai di noi Tutto ciò che vuoi Fai di noi Tutto ciò che vuoi Voto 9 Per Matteo Brunori Perché gli aggiungiamo Anche un più 1 Perché è anche un difensore Ha fatto tutto lui Qualsiasi cosa In questa partita Lui l'ha fatta Si è procurato falli Ha lottato in avanti Ha rischiato di segnare Pelo il 2 a 0 Anche No il 3 Non lo dico Comunque Ha calciato in porta Diverse volte Una parata miracolosa Del portiere avversario Davvero Stellare Spumeggiante La prestazione di Matteo Brunori Che risponde anche Alle critiche Che l'hanno visto L'hanno visto Nelle ultime partite Anni per i panchinari I panchinari Sono entrati Adesso Non vorrei sbagliarmi Sala E video A cui non do voto Perché comunque Hanno giocato Pochissimo Pochissimi minuti Ma gli altri due Sono Damiani Soleri Ah no 5 Damiani Soleri E Gomez Claudio Gomez Partiamo da Damiani Un 6 e mezzo Tranquillo Ovviamente Capite che Un 6 e mezzo Dato a un giocatore Che ha giocato Per tutta la partita E diverso Da un 6 e mezzo Dato a un giocatore Che ha giocato 15 minuti Ok Diamo un 6 più Ha lottato Non si è risparmiato Ha fatto il compito Ha fatto quello Che gli ha chiesto Mister Corini Prestare E aiutare la squadra 6 più Per Damiani Soleri Soleri è entrato Edo Nell'ultimo anno Ci ha dimostrato Che intanto la panchina Si rende sempre pericoloso Se ci avete fatto caso La partita L'abbiamo finita Praticamente Con un 4-5-1 Con Soleri Dietro a Brunori Poi è entrato video Ha fatto lui la punta Soleri si è messo Lì dietro a Brunori Due spizzate di testa Che stavano per Diventare due gol Quei di Brunori Ha lottato Come sempre Non si è risparmiato Come sempre E loco Soleri Per me Merita un 6 e mezzo L'altro 6 e mezzo Ma Mi sembra quasi scontato Va dato a Claudio Gomez Ragazzi Madonna mia Scusatemi Madonna Si è emozionato Pure il telefono Raga Parlando di Claudio Gomez Raga È entrato Il mister Corini Gli ha detto In inglese Penso Corri Run Pressa E lui ragazzi Ha interrotto almeno 5 sedine di passaggio Non l'ho visto Non l'ho visto fermarsi L'ho visto correre Poi anche per andare in spogliatoi Ha innestato anche un contropiede 6 e mezzo Pulitissimo anche per Gomez Io Questi sono i miei voti Questi sono i miei voti Fatemi sapere i vostri Fatemi sapere se l'idea Di portarvi Queste pagelle Ogni settimana Ogni fine partita Vi piace Le volete Ditemi i vostri voti Mi raccomando Io vi ringrazio Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto Sempre Forza Palermo Adesso Comincia La settimana Che porta A Frosinone Palermo Andata così Bene Bene Avanti